Mi chiamo Aldo Tempesti, sono il direttore di Techs Club Tech, l'associazione italiana di test di tecnici e innovativi. Io mi occupo di ricerca e innovazione e la sostenibilità è uno dei punti più importanti del mio lavoro, che si realizza attraverso la messa a punto di processi e la realizzazione di prodotti che siano sostenibili attraverso un utilizzo più razionale delle risorse oppure un secondo utilizzo attraverso il riciclo. Pensando al tema della sostenibilità, penso che i tre concetti principali possono essere sintetizzati in tre parole. Consapevolezza, conoscenza e determinazione nel portare avanti le azioni che servono per ridurre l'impatto dei prodotti e dei processi.